Cosa? Raddoppiare la guardia! Più precauzioni! La tua prigione potrebbe non essere adeguata! Dubiti della sicurezza della mia prigione? Assolutamente no! Shifu dubita, io sono solo il messaggero! Ti do io un messaggio per il tuo maestro Shifu! Cusine della prigione di Chorgon è impossibile! Impressionante, vero? Si è davvero... Una via d'entrata, una via d'uscita Una via d'entrata, una via d'uscita Mille guardie e un prigioniero Sì, solo che quel prigioniero è Tai Lung Portaci giù Che cosa fai? Mamma! Contempla, Tai Lung Io credo che aspetterò qui Non c'è niente da temere, siamo perfettamente al sicuro Balestrieri! Tenetevi pronti! Balestrieri? Ehi, osso duro, hai sentito? Uguai finalmente darà la pergamena del drago a qualcuno E quello non sarai tu! Ma che fai? Non imbufalirlo! E che cosa può fare? L'ho completamente immobilizzato Oh, ho pestato la coda al micettino Sono a posto, ho visto abbastanza Dirò a Shifo che non ha niente di cui preoccuparsi No, niente di niente Bene, glielo dirò Andiamo, per favore Per favore Oh, no! Che succede? Alle passazioni Forza, forza, forza Scoppate i tardi! Scoppate! Scoppate! Tai Lung, è libero! Devo appartire Shifo Tu non vai da nessuna parte, nemmeno lui! Lasciami! Tirate su! Alvin! Ci mandate giù! Non andrà lontano! Archeri! Non andrà lontano! Non andrà lontano! Oh, no! Ma la volta! Grazie a tutti. Siamo morti, ma tanto, tanto morti. Non ancora, no. Ora! Siamo morti. Scappiamo ora? Sì! Ti ha mandato sci, fu bravo. Cominciavo a considerarmi dimenticato. Svolazza da loro e dì che il vero guerriero dragone sta tornando.